Siamo con Angelo delle Donne che è l'organizzatore insieme a Giuseppe Moschetta di questo splendido evento Torneo della Befana che sta richiamando l'attenzione e l'interesse di tantissimi bambini, tanti genitori, insomma possiamo dire un grande successo Per adesso è stato veramente un grande successo, oggi pomeriggio abbiamo le finali e sicuramente faremo altro successo anche oggi pomeriggio Siamo contentissimi perché è il giorno della Befana che è una festività dedicata soprattutto ai bambini Ci sia stata tutta questa presenza e tutto questo coinvolgimento da parte di tutti, soprattutto grazie alla fondazione Grazie soprattutto a tutti i genitori che hanno partecipato e sono rimasti oggi qua a pranzo da noi Grazie a tutti